Ciao ragazzi, siamo i rappresentanti di Svolta Studenti negli organi centrali e con il video di 2 Minutes vi daremo le principali notizie che vi interessano in questo periodo. Lo c'è quindi la parola ad Alessio che vi parlerà degli esami. Ciao ragazzi, ecco qualche news dalla rappresentanza con Svolta Studenti. Per la sessione di giugno e di luglio il Politecnico di Milano garanterà a tutti di poter affrontare gli esami. Le modalità a distanza saranno quattro. La prima è una consegna di un elaborato o di un progetto. La seconda è una prova orale. La terza invece è una modalità che riguarda una risposta aperta o risposta multipla su determinate software. E la quarta è una prova scritta con foglio cartaceo. Tutte e quattro le modalità sono state analizzate dai docenti del Politecnico di Milano che in questi giorni stanno facendo formazione perché ovviamente anche loro non avevano mai affrontato una sessione d'esame a distanza. Ed è stato chiesto a tutti i docenti di comunicare in modo puntuale le modalità d'esame entro il 18. Quindi presto noi sapremo in modo preciso e dettagliato come affronteremo gli esami della nostra sessione. Oltre a ciò stiamo lavorando insieme all'amministrazione centrale del Politecnico per dare un aiuto alle famiglie in difficoltà. Ad esempio per chi ha subito un lutto o per chi ha i genitori che hanno perso il lavoro. Stiamo quindi istituendo un fondo a cui si accederà per istanza per dare una mano nel corso del prossimo semestre a chi avrà bisogno di un acquisto di un tablet, una webcam o un microfono. Oltre a ciò stiamo predisponendo un altro fondo per andare ad integrare Buonipasto che gli studenti fuori sede o comunque non a Milano non hanno potuto utilizzare nel corso del semestre. Infine vi ricordiamo che ad aprile il Politecnico di Milano ha approvato un grande progetto che si chiama La Goccia e il distretto di Bovisa in cui ambisce a riqualificare quello che è il parco dei gasometri. Questo è tutto, vi ricordiamo i nostri contatti, se avete bisogno potete scriverci su Instagram o sulle nostre mail che trovate sul sito del Politecnico. Un saluto a tutti, ciao ragazzi!